Benvenuto Spider-Man Hola gente Benvenuti a Quello che dovrebbe essere l'ultima o penultima parte Del platino di Spider-Man Stiamo con Miles Morales E stiamo facendo l'ultima missione Contro Mysterio Eccolo Bec Il mio nome Il mio nome Eccolo lì Siamo in una palla di nioe Cosa ti è successo? Pensavo che avessi a cuore il futuro dell'intrattenimento! Questo è intrattenimento! Quella storia dell'hacking ai danni del Mysterium era tutta una bugia! Eccolo l'intrattenimento! Ho passato anni Direcora respalda In attesa della tecnologia giusta E ora Grazie a te Oh, le mie illusioni sono il vincito Mamma mia No! Stas battendo Oh oh, cattivoni ovunque C'è come le altre illusioni Più nemici elimino Più è facile che riesca a fuggire Morhi Mbarà Mbarà Skor come vuoi essere vivo? fatti sotto e lo scoprirai vabbè, vuoi giocare con me? città mamma mia oh ha paura solo il potere può consegnare al nome di misterio la gloria che merita Beck? continua a lottare dubita è l'unico modo per sconfiggerlo frena se tu sei qui e misterio è l'occhio come è possibile no ora basta yuchidano e l'oste soffro oh mamma buono come è possibile mamma mia distrutto proprio no è un'altra illusione vivo o morto non riuscirai a fugire dal mio mondo ci hai provato basta da tornare indietro no no è tutto un'illusion quando ti avrò ucciso la città mi darà finalmente il rispetto che merito vuoi il rispetto? ferma questa follia sorpreso? forse è ora che sia tu a mostrarmi un po' di rispetto distruggiamo tutti il misterio il grande non ma che sei E' ora di sloggiare Potrei passare per quella parete La simulazione, riavviala Non ci riesco Ah, erano loro E' stato Quentin, ci ha obbligate Lui dov'è? Aiuto, sono qui Qualcuno, aiuto Mi hai trovato Ma hai visto? Adesso gioca nella busta Si diverte così Ho ancora molte domande Questo Le chiarirà E quindi Misterio è uno dei buoni adesso? Misterio è un criminale Così come Spider-Man è un eroe E' quando uno inizia a spirciare sotto le maschere Che tutto si complica Wow, grande Mi ha proprio incuriosito come personaggio adesso Con quest'ultima uscita di scena Mamma mia Mi ha incuriosito Vabbè Intanto ho fatto due trofei Secondo me Prendi tutti i costumi Può essere Potrebbe essere Ah si Effettivamente si Ce l'ho tutti Dovrei prendere pure queste cose qua Le pro ma Tanto Ho abbastanza componenti per prendere Le prendo senza problemi Ma giusto per Perché vogliamo il 100% di tutto E allora Le usiamo Se sentite dei casini Non vi preoccupate E' normale Iron Man Spider Lo sumo è blu nuovo Ma Sembra più quello dei Fantastici 4 Sì sì L'ho visto Ah comunque Cosa che non vi ho fatto vedere Questo qua E' il costume dei cacciatori Il costume dei cacciatori L'ho ottenuto Finendo tutte Diciamo Le missioni dei cacciatori Che Finisce così L'ultima missione Si sveglia il segreto Che Kraven Aveva Cioè ha un fratello Quel fratello Quel fratello E' Calameonte Quindi Quello che stava cercando Kraven Era semplicemente Il fratello Per questo Sguinzagliava I suoi Le sue persone I suoi soldatini E cercava diverse persone Perché tutte quelle persone In realtà Era il fratello Che si Vestiva Travestito Questo è sempre Il mio preferito Ah comunque Ho sbloccato pure Questo costume qua Noir Vi faccio vedere Cosa fa Allora Mentre qua Sblocchiamo Tutte queste cose qua Ah il viola è figo Quindi Sappiamo Che Misterio Ci saranno Sicuramente Altre missioni O DLC In futuro Ehm Calameonte Anche Quindi mi aspetto Che uscirà Nel terzo Oppure In DLC Per l'appunto Ehm Stessa cosa Per Ehm Cat Woman Oh ma questo È il vestito Dello shield Oh ma questo È il vestito Dello shield Ah È il vestito Dello shield Ah infatti Costume agenda Dello shield Si chiama Non me ne ho raccorto Ah Poi Vedendo Questa qui Costume Dark Ages E costume Absolute Carnage Ehm Ci fa capire Una cosa Una cosa fondamentale Carnage Ci sarà Non so In quale In quale Però ci sarà Questo Siamo i costume Di cacciatori Questo è il costume Che abbiamo sbloccato Adesso Di misterio Ah no Questo è De cacciatori Ehm Alla fine È molto molto Simile Quello di Peter Ok No Questo Di carnage Ciao 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 Tutto bene No Io ho detto Che non posso Lo lasciare Lo so Che la 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 Sulla mappa Sulla mappa Vediamo Dobbiamo Fare Il 100% Di tutte le zone Cosa ci rimane Da fare Cosa ci rimarrà Da fare Richieste SMQ Ah ma Ti questo E' quella La Eh no Non ho dovuto Far fare Proprio Live Oh Dove ho fatto Far gola Nessun Di Pitti Di A un Vecao Ingi Cosa Questi simbionti Da dove Arrivano C'è Sono arrivati Pure i cacciatori Mamma Di La cosa che vi dico Distruggo Tutto Ok Il fatto è che la missione stavola Una richiesta di out Avrà di nuovo perso i suoi pennuti Award Perché Non se lo ricorda E' Il tizio Che Ha Tanti piccioni E c'è In ogni gioco Di Spider-man Quanto mi manca Semplice Sono A 94% Cioè Ero a 94% Appena ho iniziato Ho Preso tutti I Costumi Award Due piccioni State bene Si Si Mettiamo qua Costume Agent Of Shield Non lo so Se è più bello Blu O nero O grigio Il rosso Non mi piace Asso Grigio O blu Questa è la scelta Ok Prendiamo la blu Comunque 94% Ho preso Tutti i costumi Ho finito Uno La missione Secondaria Quindi Manca davvero Manca Le solite Scimerie Lo vedo Volete fare un viaggio Io passo Mi sa Aspetterò il prossimo Adoravo il traghetto Mi sembrava di salpare Per un'avventura Award La vedi quella barca gialla Con il fondo nero Sì Quella barca Stile È uno zuccherino Mi piacerebbe davvero Portare a spasso Quell'ape Ehi Howard Attraversarci Tutto il fiume Fino Ai tre pilastri L'antica città Celata Tra le nuvole L'antica città Non ti seguo Howard Sì Sulla destra Cerca le luci rosse Le vedo Tre ciminiere Ma perché Ci ho lavorato Trent'anni In quella fabbrica Poi Ho perso il lavoro È uno scopo E quando è morta Mia moglie Ho perso anche il cuore Ma i miei uccelli Mi hanno ricordato Come si vola Pigi Più di tutti Howard Non preoccuparti Un'ultima cosa La vedi La statua Della libertà È lì Sulla sinistra Sì È inconfondibile Osserva Ecco lo stormo Devi aiutarmi Spider-Man Mi attende un'avventura Finalmente Ma prima Voglio liberare i miei uccellini Perché scoprano il mondo Fuori dalla città Certo New York è l'ambiente ideale Potresti condurli al nord per me In un posto tranquillo Ma Hanno bisogno di te È il momento Prova a fischiare Ah no qua Ok Howard Si vola Stiamo accanto all'acqua E pensiamo a un posto Ma in che senso Volo con gli uccelli Guardate là che figate Guardate là Battery Park Lì potreste farla su tutto e tutti Nella che non abbiate già visto Comunque Proseguiamo Guardate là che bellezza Proprio rilassante sta missione Guardate là com'è bella Per quanto ami Brooklyn Non è il posto giusto per voi Quella brezza marina è bella forte Avanti acceleriamo Woohoo Ehi PG Facci un mulinello Oh sì Forse gli alberi vicino al Queens Mamma mi portava sempre lì da piccolo Era un'oasi nascosta Mi sembra l'ideale per degli uccelli Niente male queste ali, eh? Grazie per l'ispirazione Mi mancherà dovervi inseguire per tutta New York Ehi cartone Questa è ilmayo È una tua Un'oasi nascosta Si Un'arri 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 Ehi, hai trovato un posto per liberare i miei piccoli? Ho in mente un posto nel Queens, mamma mi portava qui da piccolo È un angolo di natura per Pidgey e i suoi amici Sì, mi suona bene Non ho ricevuto molta gentilezza nella mia vita Quando vuoi Howard, non è vicinissimo il tuo quartiere Puoi comunque andare a trovarli Porto i pennuti a casa e torno da te Howard Howard Spero proprio che vi piaccia qui Beh sì Prenderò il prossimo treno Devo accertarmi che Howard stia bene È dura quando i figli lasciano il nido Howard Ehi, Spider-Man Scusa Howard era un amico Prenditi tutto il tempo che ti serve Se può consolarti Si è spento serenamente Certo No È morto Howard Tranquillo Howard Lo stormo è libero Non ai ragazzoli che vi devo di qua abbiamo fatto tutto questo 100% dove si vede? no 96% che manca? perchè 96%? ah no 96% complessivamente ok qua uno spider bot qua manca spider bot pure qua e qua addirittura tre qua uno qua niente ok a caccia di spider bot mi sta bene però vi volevo far vedere quell'altra versione di peter passa peter questa versione qua a me fa venire leggermente in mal di testa però vi faccio vedere questo è effetto fumetto nel senso che si muove fumettosamente non avevo dubbi non avevo dubbi no che se vedete i movimenti sono ah scommetto proprio cosa venderà niente di buono ecco altro trofeo equilibrista ecco allora oh 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 i shouldike oh 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 ah oh bello ecco un risultato che mette tutti d'accordo beh, prendiamo anche la cassa di soldi ci troviamo al completamento ormai non servo più a niente però allora, vediamo un po' vediamo un po' spider bot là non ce ne sono vediamo man mano facciamo step per step ok questo è questo mappero l'abbiamo visto mettiamo qualcun altro questo è di iron man o questo è di cacciatore questo è metattico scimmia di pietra questo qua che è strano gioco questo è un po' non ho visto niente qualcosa no vorrei mettere qualcosa di più questo qua chissà com'è oh lo spider bot ho trovato uno dove? eccolo allora siamo sempre qui ah no siamo nell'altra quindi qua alla fine non l'abbiamo preso allora facciamoci tutto quest'altra tratta qua vediamo un po' se lo troviamo si abbiamo trovato quello che ci mancava è come guardarsi allo specchio facciamo una pausa? ti vedo razio e mi rappo il palco Ah, quello di Wolverine è di... è di Mike Però posso metterlo dopo la missione In missione non mi fa cambiare costume, cioè personaggio Ci siamo quasi Ok, siamo a posto, il peggio dovrebbe essere passato Ma sembra la stessa persona che si sente male Non mi... Si è in vista Ehm, no, così Ok Così, sì Costume Ah, tra cui c'è pure questo Nella mischia Anche questo va a fumetto Quello là del film CGO U 용 Nitro Cosa Cosina Cosa Sì Guardia Casica Ci Num Si 坐 Grazie. 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 Eh, tra cui il film ancora lo devo vedere il secondo, mannaggia. Devo dire se con i Black Friday è diminuito di prezzo. Sì, ma in tutto questo mi sto spostando dalla... Ah, qua li ho presi tutti, quindi che manca? Manca uno qua e due qua. Ma in realtà posso fare... Ah, il viaggio rapido è permesso ovunque. Non l'avevo capito. Non l'avevo capito. Quindi... Ci percorriamo la parte centrale. ... 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 Mettiamo proprio il classico così Grazie a tutti Io cerco i ragnetti Sì, sì, adesso l'ho visto Non vedete i ragnetti sulla mappa Ma li ho presi tutti, no? Mi manca una, non so due Non l'ho visto Non vedete i ragnetti Eh, esatto E non riesco a trovare il ragnetto Che non mi esce sulla mappa Cioè, veramente non saprei Eh, sì Purtroppo sì Ed è fissato questa cosa che fa lui Chiedo chissà quanti pop corn si guarda su quel computer Perciò l'ho formato ogni 3-4 Eccolo Ragno! Ragno! Non penso sia cavalcabile Comunque sono a 97% dei progressi totali Delle secondarie mi manca solo prendere i spider bot Questi ragnetti che sto trovando Allora, qua me ne manca 1-2-3 Wow, tutta sta zona! Wow, ma è gigante 4-5 5 Ok, 5 ragnetti totali Cioè, i ragnetti sono come i... Gli droguli Gli anemoguli Non si Ho, ho, ho Am urlato Di ciò Vedi la altra Mi Gli Della Mi M Mi 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 Ehm, io penso vado domani a vedere. Eh, no, non spuntano. La mappa comunque è grande. Gashin, sì, è più difficile, però... Non dà meno sta mappa. Me lo devo setacciare pian piano tutta la mappa. Uh, eccolo, 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 eccolo. No, 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 assolutamente no. Qua puoi volare all'infinito, là no. Ok, ci è andata bene, qua l'abbiamo recuperato. Qua mi pare che serve un altro. Eh, sì. Ma è facilitato, sì, perché comunque vedi quante cose puoi fare. È molto più veloce sugli spostamenti. Poi, tieni conto che Gashin è sempre un gioco a gratis. Quindi, non ci lavorano molto su questa cosa. E poi, si sa, più tempo passi su Gashin è meglio che per loro. Uuuuh, che mazzo! Già trovato. Ecco qua. Eeeh... Ingesto attaccato. Eh, la fegge questa buona, vi! Allora... Siamo solo... Un sicuro di distanza. Eh, siamo solidali, gli unici o gli altri. Tu aiuti me, io aiuto te. Sì. Ah, lui, gentilmente non ti mangiare i fili della ricarica dei pad. Grazie. Ah, tra cui io posso fare quello così. In realtà. Ehi, io... Da che scendo. Ah, comunque stamattina... ...m'ha fatto... ...caca sotto. Perché non rispondeva, non lo vedeva dalla webcam. E dalla telecamera di sorveglianza, ne intendo. Eeeh... Eeeh... Mi s'ho preso un permesso di... ...di mezz'ora a scuola. Eh... S'ho andato a casa. Questi romani non c'è. Mamma mia. Mi ha fatto mettere una paura. Perché poi lo chiamavo dalla telecamera. Perché di solito... ...quando lo chiamo... ...eh... ...va a vedere vicino alla telecamera... ...eh... ...oppure piange e lo sento. Eeeh... Eeeh... ...invece mo non aveva detto niente. E continuava a non dire niente. Mi ha fatto mettere una paura. Perché gli ho dato pure... ...una... ...pappetta nuova. Eeeh... ...a base di carne e zucchine. Non lo so. Pensavo che c'era venuto qualcosa. Oppure era allergico. Non lo so. Io oggi ho fatto una corsa. Sono sudato sano sano. Mi sono dovuto cambiare a casa. Un po' sono tornato a scuola. Eeeh... ...che... C'è ancora deve fare tre mesi. Ma io immaginavo che dormiva... ...serenamente. Però capi? Non lo puoi mai sapere. Tante case che allergica... ...sta... ...sta pappetta nuova. Capi? No, no, è andata al lavoro. Infatti è tornata da poco. Perciò mi sono connesso tardi. Eeeh... ...abbiamo fatto pure un po' di space. Questa è... ...la vita... ...di Marcus... ...dopo il gaming. E oggi, signori... ...non solo gaming... ...anche vita privata. Eeeh... ...nessuno se l'aspettava, eh? E invece no. Ce l'ho pure io, noi. Lo vediamo... I ain't bought so much. Hahah nossa. Dai, farma, farma Ok, nononai farma tanggora baston Di farma la limping No, ma io non lo trovo questo coso L'ultimo spiderbot 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 Quello Mi hai rotto Na 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 Ok Mi sto rivistando tutta sta zona di mappa gigante qua Ma io sto coso non lo trovo Io sono pure piccolini Non è che dici Vabbè, no Piccoli Non è che Non ho non lo vedo non lo vedo torniamo in volo non lo vedo non lo vedo non lo vedo ah è scomparsa la missione cambiamo costume voglio vedere questo dei cacciatori come comunque è bello che mi hanno sbloccato sia il costume nero dell'inizio sia il costume simbionte quando diventiamo cazzuti brutali e sia quello anti-venom ultimi due spiderbot ultimi due spiderbot come cadere da una pidenza come cadere da una pidenza non lo vedo 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 ma è un criminal Invece no Mamba Questi simbionti da dove arrivano? Ottimo, però sto custom sinceramente si è bellino da vedere ma non mi dice niente Questo è bello Questo, quello la di Amazing dovrebbe essere lo Spider-Man Spider-Man, ma piace, ma piace Però il problema è sempre lo stesso Dove sono i Spider-Bot? Allora qua Vediamo là giù Eccone uno No Vediamo Vediamo Ehi, di chi è questa festa? Mia o tua? Secondo me è loro Ah, contro chi gioca e quando gioca Grazie Potremmo andare in tournée assieme Eh? Sarebbe un'ottima scusa per distruire una Spider-Mobile Una Macedonia Quindi si mangiava la frutta Ah, tra dieci minuti Scusa, scusa, scusa Ok Ok Ok, devo trovare lo Spider-Bot entro dieci minuti Ovviamente non ce la faccio a fare il plavino, però Interessante Ok Ok, in realtà non lo so se ce la faccio No, la vinciamo, la vinciamo Ecco l'ultimo Spider-Bot Non demordete Bam Supremo No, ma io ora ho prenduto tutto il Spider-Bot C'è, non vince non vince Pericolosa Non ti fa In segure Spider-Man si sta in fondo Non sapevo delle gare clandestine D'argo Ok, ne vieni L Angela LL Si Ora sei spacciato Ora sei spacciato Ah ecco qua Però mi voglio vedere un attimo i trofei Perché effettivamente a me Cosa è che manca? Vediamo un po' E voi non lo vedrete Però vi parlerò Allora Usa le tecniche del simbionte 25 volte durante il picco simbiontico Siamo a 9 su 25 Ci vuole ancora un po' Forse quello più lungo Risolvi il mistero Degli spider bot Am I Ah forse c'è un'altra missioncina da fare Esegui 30 acrobazie consecutive Senza mai toccare terra Ok Questo si può fare Fatti giro delle basi Dello stadio di Big Apple Ballars Nel ruolo di Mais Trova il trofeo di scienza Vinto da Insieme a Finn Visita la tomba di Zia May Nel ruolo di Peter Usa solo le agli di Renatella E plana dal distritto finanziario di Astoria I tunnel del vento Sono consentito Ok E questo è Questo è tutto Non so se E' il mistero dei Collezioni Qua Spider bot Ce li ho tutti Ok GGG Si però Non mi spunta niente Cioè il trofeo di prima è completo Tutte le cose a 100% Tutte le zone a 100% Eh ma La missione? Eccola 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 La labbra dove? Dove sei? Missioncina Dove sei? Eh C'è questa qua Abbiamo l'indirizzo Ma non me lo dice però Cioè non vedo missioni Sarò cieco? Ma non le vedo Passo con Miles Adesso è questo il problema E infatti questo è il problema Dovevo passare a Miles Dovevo passare a Miles Dovevo passare a Miles Ah è il sacco Però No No Troppo Comunque pure i costume Qual è? Questa qua? No Qual è quello che ha fatto lui? Ok Questa qua mi piace Allora Questa qua mi piace un casino Lì no Eeeh Eeeh In che senso? Comunichiamo con un altro mondo Io Sono solo una barista Che aiuta il prossimo Quando capita E so che gli spider bot ribelli Sono pericolosi Anche per gli affari Lasciali pure a me Oh Grazie Spider-Man Riesci sempre a fare la cosa giusta Non c'è di che E se Miguel li viene a cercare Miguel C'entra con il film Cosa Accidenti è successo Eeeh Vorrei saperlo Ok Altro trofeo fatto Siamo a 89% dei trofei Mancano solo quelle Piccolizze E poi E' platino Chi da oggi è tutto per oggi è tutto ci vediamo nella prossima live andate a vedere l'italia che gioco un saluto galattico a tutti voi dal vostro gamer di quartiere ciao